Io in Prato sono uno che di solito non fuori dagli schemi, quindi chiederei insomma, io ho pensato ai miei relatori se oltrepasso questa stascia grande insomma, perché a me io ho sempre dato la lezione frontale sin dai banchi di scuola, quindi credo che un commedio debba essere il più interattivo possibile senza ovviamente dei confini maggiati. No, anche perché io sono un abituato a parlare molto nelle scuole e vedo che c'è sempre una tendenza, quella che dopo i classici venti minuti la tensione cala, i ragazzi cominciano a sbadigliare, è l'unica cosa che pensano, come credo ora molti di loro hanno stato pensato, finisce, oppure il padre ti dice. Allora, detto questo, io partirei dalla domanda di Marco. Allora Marco diceva giustamente se a me mi rubano la macchina da chi no devo andare per restituirla. Allora Marco io vi faccio una domanda, poniti per un secondo nei panni di un tuo o ai panni, no? Quanto anni hai? Quanti anni hai? 18? Eh, 18. Poi hai dei panni di un tuo o ai panni di 18 anni che hai il padre che ha un negozio, alle 10 del mattino di una settimana qualunque arriva un altro tuo o ai panni che fondamentalmente chiede, in questo caso mettendoti nei suoi panni a tuo padre di poter proseguire, insomma, la sua attività a patto che a scadenza mensile dia il 3% dell'utile dell'attività del papa. Cioè, il 3%. Al mese, nel senso, tu mi guadagni conto, tu mezzilmente a me, a me poetano, che sto arrivando nel negozio di tuo padre, mi devi dare il 3%. Domanda perché? Perché? Perché io sono giustamente, come si diceva prima, il padrone. Io comando, io sono il re, tu sei il suddito, tu stai sotto di me e per questo sei costretto a darmi il 3%. Quando va bene? Quando va male, passi al 10, al 20, poi mi devi assumere un mio parente, poi ti acquisisco il locale e tu non diventi più proprietario della tua attività. Quindi, cosa ti voglio dire io comunque? Perché io ho molto attrezzato la tua domanda, pur essendo stata provocatoria, perché io penso che in un, come dice Donciotti, basta un tempo. Cioè, noi dobbiamo cominciare a smetterla di avere da una parte relatoria e da una parte una platea che ascolta. Io non sono venuto qui a raccontarvi la storiella. Io sono, venuto qui a trasmettervi un solo messaggio, che è quello di riappropriarci della nostra indignazione. Noi abbiamo perso la nostra indignazione. Oggi siamo in un periodo storico del nostro Paese ancora più grave di quello che fu Tagentopoli. Prima, nel 92, ci si scandalizzava, gli studenti si scandalizzavano, come diceva, un avviso di garanzia. Oggi arrestano consiglieri regionali, parlamentari, diciamo, politici inseriti delle asole. Nessuno dice niente, è tutto normale, tutto va bene. Diciamo, siamo, come dire, la nostra mente è occupata a tutto quello che è superfluo, esteriore, lustrini e paillettes. Mentre invece tutto quello che accade, il sottoposto della nostra società non ci interessa, non è particolarmente interessante. E noi facciamo dei convegni in cui si parlano di cose serissime, come appunto la legalità, come appunto nelle autogestioni, noi nelle nostre scuole parliamo spesso di antiproibizionismo, di la questione di fiudi, insomma tantissime cose interessanti, ma ci fermiamo lì. Infatti questa oggi è la, personalmente, la 32esima assemblea che faccio, abbiamo iniziato a gennaio, ma è la 136esima assemblea che l'UDS fa in tutta Italia. Ogni qualvolta io sono andato in una scuola, da Milano ad Allegento, iniziamo sempre con questa domanda, che cos'è la mafia? Ora, se io mi chiedessi a voi che cos'è la mafia, di darmi una definizione scolastica di mafia, avrei magari come risposta, intanto un momento di, come dire, gelo, perché ognuno in un convegno, proprio per la barriera di qui sopra, non si aspetta, diciamo, un'interlocuzione tra chi parla e chi ascolta, mentre invece io pongo al centro questo metodo. Cos'è la mafia? Alzate la mafia, alzate la mano, chissà cos'è la mafia, chi mi sa dire cos'è la mafia. Alzate la mafia. Nessuno, è possibile, già prima delle, diciamo, interversi, il desulto cos'è la mafia, quindi cos'è la mafia? Sì, diciamo di sì, però è un'organizzazione. Cosa vuol dire è un'organizzazione? Nel senso che ha all'interno di sé una struttura, ha una gerarchia, la gerarchia per cui c'è chi ha un ruolo, chi ne ha un altro, e entrambi questi ruoli cooperano tra di essi per appunto esercitare il potere sul territorio. Questo noi ce ne accorgiamo, soprattutto al sud, guardate la mafia, da noi, dalle nostre parti, io vengo da, non sono solo della Galapia, ma sono in una zona particolare della Galapia che è la Spromonte. La Spromonte, c'era negli anni 70 e 80, dal teatro di sequestri a Gogo, nel senso che la gente andava a Norte, prelevava i parenti di imprenditori, no? Quindi eccetera, li portava in Spromonte e li faceva stare 700-800 giorni e poi l'andrangheta riceveva appunto un riscatto, cosa che adesso non può avvenire per il semplice fatto che allora non c'era la legge sul congelamento dei beni, mentre adesso invece no, ma appena ti sequestrano un parente, c'è i beni congelati e quindi non puoi parlare. Quindi arricchimento, quindi potere, quindi denaro. Secondo voi oggi siamo in una democrazia, sì o no? No, perché? Perché? Su, forza, perché? È una pinta, sì, ma il motivo, perché? Cioè un elemento per il quale non siamo in una democrazia. Esattamente, esattamente. Guardate, io non voglio, già affatto brillantemente prima di me, gli amici relatori, di darmi insomma delle pillole di storia, tecnicismi, nel senso rispetto agli interessi economici, politici e sociali. A me interessa adesso brevemente, giusto appunto per non stancarvi, nonostante il metodo, appunto, così, eccetera, di dirvi cosa noi possiamo fare. Ed è perché magari è importante venire il 15 marzo a Bari ed è perché magari è importante non fermarsi al 15 marzo. Guardate che la campagna che diceva fino a poco, si chiama in un modo, e secondo me questo modo di essere a chiamare questa campagna riassume un po' il senso di quelle che sono queste assemblee, di quello che è l'impegno nelle strade e di quello che è di fatto quella prospettiva che ti dà questo tuo impegno. E cioè 15 marzo tutto l'anno. Praticchiamola antimafia, non predichiamola. Per questo vi dicevo prima meno conveni e magari per esempio più gruppi di lavoro. Ma anche l'attenzione stessa della scuola spesso in queste tematiche, che è una tematica fondamentale, perché guardate, parlare di mafie, di controllo mafioso del territorio, ti apre canali di discussione infiniti. Perché tu quando parli di controllo mafioso del territorio, di cosa parli? Parli del tuo vivere quotidiano. Parli del fatto che spesso vengono iniziate le costruzioni di case, poi vengono lasciate lì anni e anni, salvo poi riprendere un progetto, fare la guerra dal palco, vincere la guerra dal palco e ancora speculare l'enaro pubblico. Significa il fatto che se in Colombia il boss del Salento compra dal trafficante locale un chilo di tortellina grezza a 20 euro, la raffina la taglia fino al 27%, la porta a 4 tonnellate e mezzo al mese in Italia e nelle piazze di Lecce, Milano, Ceno e Torino un grammo, uno di cocaina costa 90 euro, da 20 al chilo a 90 al grammo. Sapete quanto fa il totale in un mese? Una finanziaria dello Stato. Ecco perché non c'è una democrazia. Perché con un solo filone di interesse economico che è l'apogaita, in un mese, le mafie, le quattro mafie, riescono a fatturare un bilancio dello Stato italiano. Chi di voi prende la forza di studio pur avendo il diritto? Alzate la mano. Ve lo dico io adesso. Oggi il nostro paese non ha la copertura delle forze di studio per gli uomini. Cioè voi, pur uno studente, una studentessa, pur non avendo